Quante volte avete visto un brucco peloso muoversi nel vostro giardino oppure su un marciapiede mentre state camminando? E come vi siete comportati? Siete fuggiti urlando? Beh, che se ne dica, non tutti i bruchi pelosi che possiamo ritrovare nel nostro paese possono causare irritazioni se presi in mano o comunque toccati. Anche se l'italianissima processionaria in effetti può causare dei grossi problemi. Quindi per evitare problemi io direi di lasciare stare i bruchi pelosi che ritrovate in giro durante la vostra vita. Ma magari usate una scopa e accompagnateli gentilmente fuori dalle scatole.